Tutto è cominciato da ieri pomeriggio con questa riquesta di questo PG che ricordiamo essere quello là che ha ucciso la sentenza del G8, quello là che ha rimandato Dell'Utri a processo, quello là che ha ammazzato la sentenza di Andreotti. Questo PG chiede l'annullamento del processo di Torino. Lì inizia il calvario per tutti quanti noi che aspettavamo, abbiamo aspettato, siamo stati, ricordo che il primo incontro si è avuto nel 6 aprile del 2009 quando la terra tremava all'Aquila. Io immagino che ci sia un clima diverso in questo paese e il clima è esattamente questo. Se qualcuno immagina che nelle nostre terre, nei nostri territori, così come ha fatto la Camorra ad oggi, si possa venire, fare i propri interessi, fare l'azienda senza nessuna regola, uccidere le persone, mandarci al macello, non ci sarà nessuna sentenza di tribunale che ci fermerà. Noi non lo permetteremo, non andremo via dalle nostre terre perché loro ce le bruciano, ce le rovinano, ce le inquinano e ci fanno morire nelle loro fabbriche. L'Eternit per Bagnola ha rappresentato uno dei tre poli di lavoro che c'era. Diciamo c'era anche questa concezione che prima il lavoro, poi la salute, ecco ora le morti. Io penso che le evoluzioni, il senso progressivo delle cose abbiano cambiato radicalmente oggi, questo nuovo vento che sembra che le aziende pur di investire, pur di attrarre gli investimenti in Italia, gli possiamo dire guardate non vi spaventate, non c'è nessun problema, potete venire anche a lavorare l'amianto in Italia, nessuno vi manderà a processo perché avete ucciso 3.000 persone. Se è questo l'intento di qualcuno sappia che ha perso, non sarà qualche sentenza in tribunale che fermerà il corso della storia. Ricordiamo che le leggi sull'amianto, le leggi di tutela ambientale sono state delle grandi vittorie di quel movimento operaio che difendeva se stesso, i propri figli, il proprio lavoro, il proprio ambiente di lavoro. Se si è arrivati ad una normativa di sicurezza sul lavoro lo dobbiamo anche a quel tanto vituperato sindacato che in questo momento viene attaccato come fuori dalle regole. Il sindacato non è un'organizzazione, non è un segretario, il sindacato sono tanti lavoratori che difendono i propri diritti. L'Eternit ha rappresentato questo, l'Eternit di Napoli in particolare ha rappresentato questo per il diritto dei lavoratori. Ieri qualcuno ha pensato che in un'aula di tribunale si potresse prescrivere tutto questo. Lo si sappia, questo non è prescritto. Stiamo parlando di imprenditori condannati perché sapevano che quella sostanza creava danni e continuavano a lavorarla senza nessuna tutela per i lavoratori. Loro sono stati condannati non perché maneggiavano del materiale che non sapevano che danneggiava i lavoratori. Loro sono stati condannati per colpa. Loro sapevano che l'Amiando avrebbe ucciso i lavoratori e lo ha fatto e lo continua a fare. Ieri c'è stato un momento triste prima di tutto questo quando abbiamo aperto lo striscione dell'Eternit di Napoli dove c'era scritta la parola giustizia. Quello striscione quando il 6 aprile del 2009 andammo a Torino lo aprimmo con molti operai, tra cui anche qualche mio parente. Ad oggi c'era qualche operaio vivo, le macchie di sangue su quello striscione e pochi di noi a mantenere alta la memoria. Oggi è la giornata della rabbia, oggi è la giornata per noi e la giornata dei morti. Io faccio parte dell'istituzione, sono assessore nella decima municipalità. Ieri sono stato lì davanti al palazzaccio che si conferma essere in tutto il suo splendore questo nome. ero l'unica istituzione napoletana. Mentre vedevo sfilare, è proprio di qualche minuto fa, la convocazione del lutto cittadino a Casale Monferrato. Mentre sfilavano tanti sindaci, presidenti di regione, hanno parlato tutti di questo processo. Non si riesce a capire solo perché in Campania il presidente della regione non prende posizione. Il sindaco di Napoli, impegnato nelle aule di tribunali, fa la sua battaglia contro una magistratura corrotta solo quando si ledono i propri interessi, non quando si ledono i diritti dei cittadini, di bagnoli o anche, permettetemi di dire, dei lavoratori di una città.